Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi giocheremo a Vlad e Niki 2 Quindi acquistiamo Cioè però abbiamo tre scelte Questa Il dentista E Babbo Natale Facciamo Babbo Natale Perché siamo nelle vacanze natalizie Allora Siamo nel laboratorio dei giocattoli Di Babbo Natale Che brutto Babbo Natale Potete aiutarmi ragazzi Dovete mettere tutti i giocattoli In questo sacco E aspettatevi E affrettatevi il Natale E alle porte Una tonnellata Ricordo nel Vlad e Niki 1 dove dovevamo Fare la salta Babbo Natale Allora un pinguino Portapacchi Oddio Cosa dobbiamo fare Giochi per Babbo Ah ecco Questo Niente dobbiamo solo attendere Ed eccoci qua Una chiave leccalicca L'abbiamo trovata Chiave Chiave Dobbiamo ricomporre Dobbiamo ricomporre Il pan di zenzero Inizia dalle gambe Sotto c'è l'ombra Che ci aiuta A mettere un po' di cosine a posto La caramella su Ma anche il bottone verde E sotto leccalicca Non è qua Ah è lì Ok E ci ha dato Un'ampulla Devi lanciare la palla Quale? Ma non ce l'abbiamo No Torna indietro Lomino Ah gli hai dato Leccalicca Ah e mi ha dato Lomino Baby Yoda Ma Siamo veniti Baby Yoda Da Vlad the Niki A Star Wars Oddio Credo lui è qui Ah è la lista Di buoni e di cattivi Perché ci si sta Bellissimo Bellissimo questo No no La lista di qua Il maiale Penso sia buono Vediamo No No Scusa Il maiale di qua Metti il bambino di là Questo Questo Sotto Vlad Vlad di qua Che mi hanno messo di qua Niki Vlad Il fratellino La serellina Non ci capiamo niente Lui No È un bandito Vabbè Facciamolo dopo Alla fine In ordine Ci ha dato Un vestitino Delle forbici No Ma sta cadendo Cosa L'aereo Vedi Ah è guasto Vabbè Forse dobbiamo cercare Questa è la slitta Oh oh Quindi Forse devo mettere Tutti i pacchi Legali In un posto E tutti E tutti E tutti Che Questo è complicato Però Ognuno ha la sua figura Allora Ok Allora gira questo E poi Giro pure questo E vabbè Dopo lo riposi Perché non muovere questo Adesso apriamo I pacchetti I pacchetti Ti sveglioni E ste palline Le taglia Ah Le ha proprio spaccate Benissimo Su due E su tre E questo che cosa Ah una Ah bella Poi sto Bello Trova le carte uguali Coniglio No Omino No Coniglio Coniglio Orso Pattino Omino E pattini Wow Bravissimo E ci ha dato Un joystick E una fragola No Il joystick Ah ce l'ha dato Joystick Sì Poi questo ci lancia I pacchi Vediamo qua Ah qua Qua cosa bisogna mettere Una Rotella Ce l'abbiamo No No Manca una rotella Sotto ai cappelli Ah Sono lunghi Ah Iniziamo a mettere Una fragola Che ci servirà Questi sono regali Che Papa Natale Deve portare ai bimbi Quanto pare si E come Sono strani Poi Oddio A chi serve Una fragola Prendi sta papera No Ah questo è Quello che produce I giochi Questo tubo Rosa Facciamo tipo Entrare No No vabbè ma non va Vediamo qua Ah qua Ah li devi girare Capito? Devi comporre Il giallo col giallo Il rosa Il rosa Qui Qua si deve stare C'è il verde No Allora Il rosa va girato Un po' Di così Ok Ah carito Qui c'è il verde Ok Forse è una combinazione Questo sopra L'azzurro Qua L'azzurro E E E E Non lo so Devi muovere questo Questo L'enigma Del barattolo E' partito il razzo Il razzo è andato giù E ci ha dato il razzo Però non ci dice Quanti Giochini Parchi Eh Giochini Ma quello non è Bebioda Quello è un elfo Che bello elfo Che c'è Un elfo di Bebioda A chi serve un piede di porco Qualcuno che deve Scassinare qualcosa Un bluadro E vuoi mettere i pacchi Là dentro Vediamo che cosa Servirà Questo No Questo abbiamo già fatto Ah giusto Con le carte Metti i pacchi Eh Non avevo visto il Può essere che abbiamo finito No Questo non Allora serve per aggiustare La macchina degli ingranaggi Ma ci serve un ingranaggio Ce lo darà questo Non lo so Vediamo Oddio Di nuovo qua siamo Proviamo A mettere Ad aggiustare Questa Zero No No Non va Questi pacchi Cioè Hai visto Vedi il piede di porco Sta rompendo Tutti questi tasselli Per E che ci serve ABC ABC Altri regali Altri regali E adesso Che si fa Cosa dobbiamo fare Palle da bullying Un po' pesante Eh Ah no Sono le cose rotte Questo non c'è la stella No Una pinza No Qualcosa uscirà Cos'era la cacca Con la cosa marrone Ma non l'ho vista Una Eh ci serve Ah questo è quello che ci serve Una ricuoscita L'ultimo regalo Una Ah una fabbrica Una candela Un regalo Un pacchetto No Il secchio Il secchio Dico io A chi ci serve un secchio Nella prossima Nella prossima Lista di Babbo Natale C'è da inserire Un secchio Un peluche Un pacchetto Di nuovo la candela Poi se non vi siete iscritti Iscrivetevi al nostro canale Di pesi No Per chi vuole fare palestre Oh Una tonnellata Ah una tonnellata Un po' pesante Vole a mettere nel pacco di Babbo Natale Ecco qualcuno che vuole restare in forma Un sole Un sole C'è chi vorrebbe un sole Una brezzel Le cuffie Vabbè le cuffie Questo non ci dà più niente Con quest'aereo Mezzo Vabbè Bamboline Pochette Pinguino Cioè che poi non l'ho mai visto Un pinguino Che aiuta Babbo Natale Quindi adesso Ci indica Che dobbiamo accendere Tutte le stelline Le luci Le luci Giusto Per La macchina Ah c'è stata una macchina E' l'ultimo regalo Sì perché qua c'era la lista Ah ecco questa era la lista dei doni Grazie per il vostro aiuto Avete raccolto tutti i giocattoli E salvati il Natale Buon Natale E felice anno nuovo E si viva Iscrivetevi al nostro canale Attivate la campanellina Lasciate like E iscrivetevi Ciao